Il Centro Commerciale Naturale di Montevarchi ha donato un defibrillatore alla città facendolo installare proprio oggi in Piazza Varchi sotto il loggiato. A questo si accompagna peraltro un periodo di formazione già completato che riguarda gli esercenti cittadini, istruiti in oltre 30 unità a come usarlo per salvare una vita verso coloro che sono colpiti da attacco cardiaco. Negli attacchi cardiaci sono fondamentali i primi sei minuti di intervento perché nei primi sei minuti si può evitare non solo la morte ma anche danni celebrali a nonostie molto pericolose per tutte le persone e in sei minuti nessuna ambulanza può arrivare. Quindi noi abbiamo donato molto volentieri questo defibrillatore quando ci è stata offerta questa possibilità dall'assessore. Ringraziamo la misericordia che ci ha permesso di formare oltre 35 operatori perché tante volte anche con piccole informazioni veramente si dà un regalo di civiltà a tutto il Paese. Quindi si può dire che da oggi davvero possiamo fare gli acquisti con il cuore a Montevarchi perché abbiamo pensato anche al cuore dei nostri clienti, dei nostri concittadini. Come detto 35 circa i commercianti che hanno partecipato al training per il primo soccorso ed utilizzo del defibrillatore. Molti naturalmente sono dislocati qui intorno ma non solo se abbiamo pensato un po' a fare a macchia d'olio e a coprire tutte le aree e anzi pensiamo nei prossimi mesi di formarne ancora altre. In fin dei conti sono delle piccolissime nozioni che possano servire a tutti veramente in tutti i momenti della giornata perché nessuno ci pensa ma veramente purtroppo queste sono cose che nessuno speriamo di non usarlo mai insomma. Però è chiaro che tutto può succedere. Davvero insomma questo è un dono di cuore in tutti i sensi. Grazie.